Sì, 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 prego. Ehi. E' trenti? E' trenti, sì, com'è da... Maestro, come stiamo? Va bene. Mi amico, la cosa, mi erete, mi è andato qui. Siamo nello studio di Antonio Spada, in via Università 12. Siamo entrati a trovare l'amico, pittore e artista, perché abbiamo appena consegnato, delle opere, al teatro civico, per mercoledì 18.30. Vi aspettiamo tutti. Ok. Ha detto tutto lui, va bene. Io riprendo le opere. Dentro ci sono quelli più interessanti. Questo è spettacolare. E anche, non sono andato. E' il sorbetto? Sì. Ebbè, è il poeta, quello. Bravo. Quello è il 24 felicoteri al tramonto del poeta. Aspetta. Non sapevo neanche cosa si doveva fare per un dolore. E piano piano mia figlia mi ha insegnato a arrivare, a raggiungere, a copiare. Io. E' il Gutenberg si dovevo fare per iugenio. Così. E questo è il il tuo figlio. È una buona. Giapta. Non è la mia figlia. E fra te primo finito. Più. artista. E secondo te il coldero stai facciando? O boona. O no. Qui vuole passare al proseguire. Perché riesco a���t throne intoしました. Grazie a tutti.